Naturalmente, anche la nuova A500 elettrica richiede una manutenzione. Però, rispetto ai modelli a combustione, è tutta un'altra storia. Le auto a combustione sono molto complesse, con tante parti mobili, tubi, filtri e liquidi diversi. La nuova A500 elettrica è molto più semplice da manutenere, poiché prevede meno componenti soggetti a usura. Quindi, la spesa per la manutenzione si riduce di circa il 35% rispetto a un'auto a combustione. Ma non solo. Potete contare su una batteria garantita per 8 anni e 160.000 km. In più, la nuova A500 è dotata di un innovativo sistema connesso che ti permette di aggiornare automaticamente l'infotainment over the air, senza andare in concessionaria. Così, ti rilassi e ti dedichi a ciò che ti interessa davvero. Ciò che ti interessa. Grazie a tutti.